Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Il caso di oggi ci porta in Spagna, più precisamente ad Alcácer, un comune spagnolo di poco più di 7000 abitanti, situato vicino a Valencia, nella costa sudorientale. Questo caso è uno dei più noti della Spagna e sebbene sia considerato risolto, ha lasciato molte domande senza risposta. È un caso orribile, raccapricciante, molto simile a quello che si svolse in Italia tra il 29 e il 30 settembre del 1975, al Circeo. Le vittime furono la quindicenne Antonia Gomez Rodriguez, la quattordicenne Maria Deseada Hernandez Folk e la quattordicenne Miriam Garzia Ibora. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Antonia, che preferiva essere chiamata Tony, è nata a Valencia il 25 maggio del 1977 ed era la più giovane dei tre fratelli. Aveva una sorella di nome Lucia e un fratello di nome Fernando. Amava la danza e la moda e non vedeva l'ora di compiere i 16 anni per poter lasciare la scuola, che non amava in realtà, per poter andare a lavorare in modo da poter mettere dei soldi da parte per inseguire i suoi sogni e comprarsi tanti vestiti. Amava molto gli animali, tanto che un giorno, col permesso di sua madre, decise di adottare un gattino randaggio che trovò per strada. Amava passare il tempo con il suo amico peloso e prendersi cura di lui. Deseada, conosciuta anche come Desi, è nata quasi un anno dopo Tony, nel febbraio del 1978. Aveva un fratello e una sorella maggiore di nome Rosana, di tre anni più grande di lei. Era una ragazza forte e sicura di sé e portava gioia a coloro che la circondavano. Era molto atletica ed eccelleva nello sport, tanto che aveva ottenuto spesso trofei e medaglie in diverse discipline. Adorava sfrecciare sorridente con i suoi pattini per tutta la città ed era una ragazza molto socievole. Non aveva problemi a fare amicizia, ma proprio come Tony non nutriva grandi interessi per lo studio. Infatti, al tempo, stava ripetendo la terza media. Miriam, l'ultima delle tre, purtroppo protagonista di questo resoconto, è nata il 28 luglio del 1978, pochi mesi dopo Desiree. A differenza delle altre due ragazze, era la figlia maggiore. Aveva due fratelli più piccoli, Fernando e Martin, che frequentavano la stessa scuola di Desiree. Era una ragazza molto bella, da capelli castani e gli occhi azzurri che attiravano l'attenzione di molti ragazzi della sua classe, e non solo. Era una ragazza timida, riservata e molto sensibile, ma molto allegra. Contrariamente a Tony e a Desi, amava la scuola e pensava che fosse la sua massima priorità in quel momento della sua vita. Al tempo stava frequentando l'istituto La Florida, che si trovava nella vicina città di Catarroja. Questo significa che, a differenza delle sue amiche, Miriam stava progettando di continuare a studiare. Era appassionata di balletto e trascorreva molto del suo tempo ad allenarsi. Amava la poesia, la lettura e la scrittura. Le tre ragazze, insomma, si completavano a vicenda nel migliore dei modi e amavano trascorrere il pomeriggio l'una a casa dell'altra e poi la sera, nel fine settimana, andare spesso a delle feste organizzate dai loro cotanei. Insomma, si stavano godendo in maniera sana la loro vita da adolescenti. Nessuna delle tre poteva mai sospettare che la loro vita sarebbe finita in maniera così tragica. Arriviamo a quel maledetto 13 novembre del 1992, che era un venerdì, venerdì 13, tanto per dire. Le ragazze organizzarono un'uscita tutte insieme. Prima di uscire però si recarono a fare una visita ad un'altra amica, Esther Diaz Martinez, che era malata a causa di una normale influenza stagionale e non si sarebbe potuta unire a loro. Esther non aveva idea che, a causa della sua influenza, sarebbe sopravvissuta ad una fine orribile, quando si dice che tutti i mali non vengono per nuocere. Le ragazze avevano in programma di andare in una discoteca chiamata Color, nella vicina città di Picassent, perché un loro compagno di scuola aveva organizzato lì un evento di raccolta fondi per la gita scolastica di fine anno. Le tre ragazze, che ricordiamo avevano 14 e 15 anni, chiesero al padre di Miriam di accompagnarle quella sera, ma anche lui era stato colpito dall'influenza stagionale e non era in grado, quindi dovettero ripiegare su un autobus. Intorno alle 8 di sera, dopo aver lasciato la casa di Esther, avendo ormai perso l'autobus per Picassent, decisero di fare l'autostop, come facevano molti adolescenti all'epoca. Verso le 8 e 15 un loro conoscente, Francesco José Herbas, raccontò di averle viste sedute sul marciapiede ad un paio di isolati di distanza dalla casa di Esther, mentre era in macchina con la sua ragazza, Maria Luzza. Pur conoscendole soltanto di vista, si era comunque offerto di accompagnarle ovunque fossero dirette. Le tre ragazze gli avevano detto di avere intenzione di andare alla discoteca Color, così lui e Maria le fecero entrare in macchina con l'intenzione di accompagnarle fino a lì, ma purtroppo, a causa di alcuni problemi sovraggiunti alla loro auto lungo la strada, non avevano potuto portarle fino a destinazione, ma erano stati costretti a fermarsi in una stazione di servizio, a poche centinaia di metri dalla discoteca, e separarsi dalle ragazze che, presumibilmente, avevano proseguito il percorso a piedi. Alle 10 di sera, però, le ragazze non erano ancora tornate a casa e le loro famiglie cominciarono a preoccuparsi e pensare che avessero avuto qualche problema. Tony, in particolare, era sempre a casa verso le nove, perché quello era il momento in cui la famiglia di solito cenava e avvisava sempre quando sapeva che non sarebbe tornato a casa all'orario prestabilito. Fernando, il padre di Miriam, che non poteva accompagnarle perché influenzato, comunque uscì a cercare le ragazze. Andò prima alla discoteca, ma nessuno con cui parlava ricordava di averle viste. Poi, intorno alle 23, andò alla stazione della Guardia Civil per denunciare la scomparsa di sua figlia. La polizia, però, come accade spesso, non prese seriamente le sue preoccupazioni e gli disse che non avrebbe accolto la sua denuncia di scomparsa fino a quando non fossero trascorsi almeno 24 ore, perché avrebbe potuto trattarsi di un allontanamento volontario. Fernando si diresse a casa per aggiornare i propri cari e poi continuò comunque a cercarle per il resto della notte. La mattina seguente, il 14 novembre alle 9.40, i genitori delle tre ragazze scomparse tornarono alla Guardia Civil per denunciare la scomparsa delle loro figlie e finalmente le loro preoccupazioni furono prese sul serio dai poliziotti. Le ragazze infatti non avevano portato soldi o vestiti con loro, non indossavano né cappotti né giacchi pesanti, perciò non avrebbero potuto essere scappate di casa. Miriam inoltre aveva lasciato il suo portafogli a casa con circa 20.000 pesetas all'interno, l'equivalente di circa 350 euro odierni. Daisy aveva preparato la sua bursa per andare a pattinare la mattina seguente e Tony aveva programmato di vedere un amico durante il fine settimana e non aveva annullato l'appuntamento, perciò non avrebbe avuto alcun senso che avesse pianificato di andarsene la sera prima. La Guardia Civil iniziò immediatamente le ricerche, interrogò gli amici delle ragazze e i clienti abituali del color. José Antonio Cano Lancière, un loro amico, disse che quando era uscito dalla discoteca, mentre passava davanti alla zona della stazione di servizio sul suo scooter, aveva visto le ragazze camminare verso il centro della città e le aveva salutate. La polizia giunse alla conclusione che Tony, Miriam e Daisy non erano mai arrivate alla discoteca, furono stampati dei volantini coivisi le ragazze scomparse e la comunità locale intera aiutò le famiglie e gli investigatori a distribuirli in città e nelle zone limitrofe. Fernando, il padre di Miriam consumato dal senso di colpa per non aver accompagnato le ragazze in discoteca quella sera, incanalò tutte le sue energie per ottenere quanta più pubblicità possibile per la ricerca. Più persone sapevano della scomparsa delle ragazze, più persone avrebbero potuto aiutarlo nella loro ricerca, che fu presto estesa a tutto il paese. Fernando sarebbe diventato il volto più conosciuto dell'indagine. Il padre dal cuore spezzato iniziò infatti a parlare ed apparire in qualsiasi programma radiofonico o televisivo che avrebbe portato un po' di pubblicità al caso. Pochi giorni dopo la scomparsa delle tre ragazze apparve con Esther Diaz Martinez, la quarta amica, al programma televisivo corrispondente al nostro chi l'ha visto, per lanciare un appello a tutti i telespettatori affinché si facessero avanti qualora avessero avuto notizie delle ragazze. L'uomo cercò in ogni modo di ottenere quanta più attenzione mediatica possibile, chiamando giornali, stazioni radio e reti televisive e rilasciando interviste ad ogni emittente potesse aiutarlo a diffondere la voce della sparizione delle ragazze e a trovarle. Le segnalazioni, come avviene spesso in questi casi, si moltiplicavano. Le ragazze venivano avvistate in tutto il paese, cosa che manteneva viva la speranza delle famiglie di poterle riabbracciare presto. Ma nessuna di queste segnalazioni si rivelava poi fruttuosa. Si scoprì che la sera prima della scomparsa, il 12 novembre, Tony aveva chiamato la sua radio locale per dedicare la canzone Major Tom di Peter Schelling al suo gruppo di amici, tra cui Daisy e Miriam. La conduttrice radiofonica le aveva chiesto quali fossero i suoi piani per il fine settimana e lei aveva risposto che non aveva organizzato niente di particolare, ma era sicura che in ogni caso non lo avrebbe trascorso a caso. Il 21 novembre, una donna di 63 anni, Maria Dolores Badal, disse di averle viste il giorno della scomparsa salire su una piccola auto bianca che le era sembrato avesse già altre quattro persone all'interno, ma la segnalazione non fu presa in considerazione, perché non sembrava possibile che un'auto potesse ospitare ben sette persone al suo interno. Anche il ministro dell'interno spagnolo José Luis Courchera si interessò personalmente al caso, sotto la sua supervisione, infatti fu istituita una task force che venne denominata UCO, Unità Centrale delle Operazioni, un'organizzazione paragonabile all'FBI americana. Il presidente del governo, Felipe González, inoltre, ricevette le famiglie delle tre ragazze scomparse la vigilia di Natale del 1992, che, dopo aver ascoltato le loro suppliche, promise loro di destinare un numero maggiore di poliziotti alla ricerca, nella speranza di una rapida risoluzione del caso. L'UCO cercò le ragazze a livello nazionale, principalmente nelle aree di Picassent e Alcacer, con la collaborazione delle forze speciali spagnole. Si cominciò a ritenere che le ragazze fossero state rapite e fossero trattenute da qualche parte contro la loro volontà. Furono stampati altri 20.000 volantini in inglese, francese, tedesco, olandese e italiano, e altri 20.000 in arabo, oltre a milioni in spagnolo. In totale furono stampati e distribuiti circa 5 milioni tra poster e cartolina. La ricerca si estese poi anche alle nazioni e ai continenti vicini e fu coinvolta anche l'Interpol, perché si cominciò a pensare che le ragazze fossero state costrette ad attraversare il confine verso i vicini paesi europei o africani. Ad un certo punto si diffuse la voce che le ragazze fossero state rapite e portate in Inghilterra. Patrizia Amorrey, la giornalista di un programma inglese che si occupava di persone scomparse, invitò le famiglie delle ragazze alla sua trasmissione affinché il caso potesse attirare anche l'attenzione del pubblico britannico. Il 25 gennaio del 1993, Fernando, che aveva ormai lasciato il suo lavoro e stava cercando sua figlia a tempo pieno e la sorella di Tony e Luisa, andarono fino a Londra per parlare con i media. Trascorsero molto tempo a Scotland Yard, condividendolo con loro tutte le informazioni che avevano sulle ragazze e sulla loro scomparsa. Mentre Fernando e Luisa si trovavano ancora in Inghilterra, Patrizia, la giornalista che li aveva invitati, ricevette la notizia sconvolgente di un macabro ritrovamento. Ma, non avendo ancora la certezza che si trattasse delle ragazze spagnole scomparse, si limitò a consigliare a Fernando e Luisa di tornare a casa il prima possibile. La mattina del 27 gennaio del 1993 era una mattina fredda nella città spagnola di La Romana, a 40 chilometri dalla città portuale più vicina di Alicante. La Romana è una città piccola, tranquilla, immersa nella natura, in una zona montuosa della Spagna orientale. Quel giorno Gabriel Aquino González, un agricoltore in pensione con l'hobbi dell'apicultura e il suocero di uno dei suoi figli, José Sala, intorno alle 10 del mattino si erano regati presso una casa abbandonata che si trovava nei paraggi, dove tenevano i loro alveari per controllare le arnie. Mentre era lì, Gabriel aveva notato qualcosa di riflettente sul terreno, sotto alcuni rami sistemati in modo sospetto. Qualcuno aveva chiaramente scavato una buca e aveva usato dei rami per coprirla. Gabriel aveva chiamato José per avere la sua opinione sulla scena. José aveva spostato alcuni dei rami per vedere meglio sotto gli stessi e, con orrore, aveva scoperto che l'oggetto che brillava era un orologio che si trovava al polso di un braccio. Lo stesso orologio indossato dalla povera Tony il giorno della sua scomparsa. I due apicoltori avevano chiamato immediatamente la polizia che, rimuovendo tutti i rami, trovarono i poveri resti sepolti delle tre ragazze. Tornati ad Alcacer, da Londra, Fernando e Luisa e i componenti delle altre famiglie, dovettero andare a identificare i corpi delle loro figlie e sorelle. Essendo un caso seguitissimo dal pubblico, i giornalisti si immobilitarono per documentare senza alcun rispetto ogni momento successivo al ritrovamento dei corpi, seguendo con le telecamere i familiari delle ragazze, anche nelle fasi più private, per mostrare al pubblico il loro dolore e renderlo il più sensazionale possibile. Alle famiglie veniva chiesto cosa provassero in quel momento. In tv si potevano vedere i familiari urlare di dolore, paura e rabbia. Ma veramente, che Dio vi maledica, ma un padre e una madre che hanno perso la propria figlia, cosa volete che provino? Gioia, sollievo, pacatezza d'animo, pace interiore? Ci sono dei giornalai, perché solo giornalai possono essere definiti, a cui andrebbe tolta la possibilità di fare il proprio lavoro di sciacallaggio mediatico, solo per cercare un punto di share in più, calpestando la vita e la dignità, di certo non la loro, perché non ne hanno, ma delle povere vittime e parenti di queste. Un giornalista chiese addirittura a un medico legale, di fronte ai membri delle famiglie, se le ragazze fossero state abusate, anche se non era ancora stata eseguita l'autopsia. I fratelli di Miriam furono costretti a leggere le sue poesie singhiozzando. Non volevano farlo, ma il conduttore continuava ad insistere con un foglio in mano. Ve lo devo dire, ben ben arrotolato dove glielo riponevo il foglio? Vabbè, sorvoliamo. Nella piazza di Alcasserre fu allestito un tendone all'interno del quale fu organizzata una diretta televisiva. Sul luogo si riunì una folla di persone in lutto, scioccate, infuriate, per l'atroce crimine, ma anche morbosamente curiose di apprendere i dettagli più macabri di quanto fosse accaduto alle ragazze. Molti iniziarono ad urlare chiedendo la pena di morte per l'assassino. Una volta scoperti i colpi iniziarono le indagini, il modo in cui furono svolte e causeranno moltissime polemiche. E qui, carissimi, quando si dice che noi con gli spagnoli siamo cugini, si capisce il perché. Innanzitutto le autorità locali, tra cui il magistrato, il giudice José Luis Borch, impiegarono diverse ore per arrivare sul posto del ritrovamento perché inizialmente non pensavano che i resti trovati appartenessero alle ragazze di Alcasserre. Per quanto ne sapevano, era stato trovato solo un corpo sepolto che pensavano appartenesse ad un uomo scomparso poco tempo prima dalla zona. Quando iniziarono lo scavo, invece, scoprirono che i resti appartenevano a tre individui di sesso femminile. Il secondo intoppo fu che purtroppo quel giorno la task force dell'UCO non era presente nella zona perché si trovava a Madrid a causa di cambiamenti all'interno dell'organigramma e non era riuscita a supervisionare lo scavo. Questi due elementi, che di per sé non dovrebbero in un corpo di polizia degno di questo nome essere fondamentali, fecero sì invece che le indagini iniziarono nel modo peggiore possibile. Infatti furono inviati quelli che definiremmo quattro scappati di casa ad analizzare la scena del crimine che non fu adeguatamente protetta e la gestione delle prove fu a dir poco superficiale. Funzionari e testimoni avevano camminato liberamente per l'area e avevano addirittura iniziato lo scavo prima di fotografare adeguatamente la scena del crimine. Gli oggetti scoperti nei pressi del ritrovamento non furono fotografati laddove erano stati trovati, ma erano stati raggruppati tutti sotto un albero per essere ed è fotografati tutti insieme. Questo significa che fu impossibile determinare in seguito da dove provenisse esattamente ogni oggetto e quanto fossero rilevanti per il caso. La maggior parte dei reperti recuperati, anche quelli bagnati, furono collocati in sacchetti di plastica dove sarebbero rimasti per un tempo indefinito, in alcuni casi per ore, ma in altri per giorni. Secondo gli esperti, intervistati in seguito, i reperti bagnati non dovrebbero mai rimanere in un sacchetto di carta o di plastica per più di due ore, perché può iniziare su di loro la proliferazione dei batteri che può danneggiare prove preziose, perché su un oggetto bagnato possono iniziare a crescere funghi e muffe che ovviamente possono rovinare in modo permanente le prove forensi. I corpi delle ragazze furono trovati accatastati uno sopra l'altro in una fossa che sembrava essere stata scavata mesi prima. I funzionari sulla scena del crimine scattarono una sola foto dei corpi mentre venivano trovati, dalla quale si può distinguere ben poco oltre a fango e sporcizia. I corpi delle ragazze erano stati avvolti in quello che sembrava essere un grande tappeto verdastro che era diventato oscuro a causa dello sporco. I registri mostreranno che vari membri della forza investigativa pensavano che il tappeto fosse blu, ma le foto successive mostrarono che era verde o marrone, a seconda della luce. I corpi si trovavano in un avanzato stato di deposizione, le loro mani erano state legate dietro la schiena con una corda nera e due delle ragazze erano state dettate. L'area in cui furono ritrovati ospitava molti animali selvatici, perciò non fu facile capire quali ferite erano state inferte loro dall'assassino e quali dagli animali selvatici. Non c'era sangue o prove intorno alla scena del crimine che indicassero che le ragazze fossero state uccise lì. 75 giorni dopo la scomparsa le autorità confermarono che i resti trovati alla romana appartenevano proprio a Tony, Daisy e Miriam e furono consegnati ai medici legali di Valencia per le autopsie. L'UCO arrivò più tardi quella notte, ma dopo che i corpi erano stati disseppelliti e portati via. Solo allora l'area fu finalmente transennata e messa in sicurezza. Nell'impossibilità di continuare a cercare delle prove, dal momento che si stava facendo buio, gli investigatori tornarono il giorno seguente per continuare le ricerche nell'area circostante. Gli oggetti trovati intorno e all'interno della fossa furono un binocolo, un guanto, tre cinture per pantaloni, due pezzi di abbigliamento tra cui una giacca di velluto a cosse strappate e una maglietta bianca con un logo rosso sul davanti. Furono trovati anche un pezzo di corda da vela, una cartuccia di videogiochi, due fibre nere sintetiche e dei pezzi di carta strappate e gettate in giro. Sembrava che la maggior parte di questi oggetti fossero semplicemente spazzatura, ma un frammento in quella spazzatura avrebbe aiutato gli inquirenti a risolvere il caso. Uno di quei frammenti infatti si rivelò provenire da un ospedale di Valencia. Era un frammento di un referto medico riguardante delle cure ambulatoriali per una malattia venerea sul quale c'era un numero di previdenza sociale e un nome con cui avevano una certa familiarità. Era possibile che questo avesse qualcosa a che fare con gli omicidi? Il nome e il numero di previdenza sociale trovati sul pezzo di carta era di un individuo già noto alla polizia, in quanto lui e i suoi fratelli finivano spesso nei guai. Enrique Angles, che viveva circa 14 minuti da Picassin e aveva diversi precedenti penali. La polizia si regò presso la sua residenza, ma nessuno aprì la porta. I poliziotti allora tornarono più tardi con un mandato di perquisizione e questa volta Enrique aprì alla polizia. Il ragazzo era a casa con sua sorella Kelly e diverse altre persone. La polizia dopo un rapido interrogatorio scoprì che non era stato lui ad andare in ospedale a farsi curare, ma suo fratello Antonio, che aveva finto di essere lui. A quanto pare Antonio usava spesso i documenti di previdenza sociale di Enrique per evitare di essere catturato dalla polizia, sì perché dovete sapere che in realtà avrebbe dovuto trovarsi niente meno che in prigione. Antonio Angles, noto alla polizia per essere un uomo violento anche verso la sua stessa famiglia, infatti non aveva fatto ritorno in carcere dopo una settimana di permesso premio. L'uomo si trovava in carcere a scontare una pena detentiva di sei anni per aver rapito e torturato per 25 ore una donna che gli aveva rubato un sacchetto di eroina che lui stava progettando di vendere. A causa dell'inettitudine di qualcuno fu messo un mandato di arresto nei suoi confronti solo sei mesi dopo la sua fuga, avete capito bene sei mesi. Antonio Angles perciò era fuggitivo e latitante dal marzo del 1992, da prima cioè che le ragazze scomparissero. Kelly, la sorella, rivelò che Antonio era stato lì quel giorno ma era fuggito fuori dalla finestra prima che Enrique aprisse la porta alla polizia. Mentre la polizia era in casa Angles per effettuare la perquisizione, entrò in casa in compagnia di due dei fratelli di Antonio, Maurizio e Riccardo, un uomo che sarebbe diventato il principale sospettato dell'omicidio delle tre ragazze di Alcasse. Miguel Ricard, detto Errubio, il biondo. L'uomo possedeva una Opel Corsa bianca. Ricordate che il 21 novembre Maria Dolores Badal aveva detto di aver visto salire le ragazze su una piccola auto bianca, testimonianza che però non venne tenuta in considerazione perché poco credibile. Tutte le persone presenti nell'appartamento furono portate alla stazione di polizia per essere interrogate. I detective stabilirono rapidamente che Enrique non era coinvolto nel crimine perché a causa dei suoi problemi mentali non sarebbe stato in grado di compierlo e la loro attenzione si focalizzò su Miguel Ricard e Antonio Angles. Ma chi erano questi due gentili uomini? Cerchiamo di inquadrarli meglio. Miguel Ricard è nato a Cataroja, Valencia, il 12 settembre del 1969. Quando aveva solo tre anni, sua madre era morta a causa di un attacco epilettico e suo padre, un uomo alcolizzato e violento, lo aveva mandato in un collegio per orfani a Valencia fino a quando non aveva completato la scuola. Ad un certo punto era sembrato che Miguel potesse avere un futuro brillante davanti a lui perché aveva persino ottenuto una borsa di studio per studiare all'università, ma sfortunatamente ad un certo punto aveva incontrato cattive compagnie, aveva iniziato a bere e sperimentare l'uso di droghe e a 16 anni aveva abbandonato completamente la scuola per iniziare a lavorare dapprima in una fattoria e in seguito come venditore di autousate. Poco dopo era andato a vivere con la sua ragazza e i due avevano avuto una figlia insieme, Maria Rosa. A vent'anni, Miguel si arruolò poi nell'esercito spagnolo e svolse la sua attività nel porto della città di Malaga. Dopo questo breve periodo nell'esercito, Miguel tornò a casa e riprese il suo stile di vita delinquenziale. Continuò a bere, ad assumere droghe, cosa che costrinse la sua ragazza, alla fine, a lasciarlo. Fu allora che Miguel si trasferì a Catarogia, a casa del suo amico e fornitore di droga, Antonio Anglessi, dove vivevano anche gli altri membri della famiglia di Antonio, tra cui suo fratello Enrique. Antonio non ebbe una buona influenza su Miguel, insieme i due iniziarono a dedicarsi a piccoli crimini come a rubare auto e spacciare droga. L'altro componente del dinamico duo era appunto Antonio Anglessi. Antonio è nato in Brasile il 25 luglio del 66, quando aveva due anni la sua famiglia si era trasferita da San Paolo a Valencia. La madre, Nuessa, veniva maltrattata da suo marito e quando i suoi nove figli erano cresciuti anche alcuni di loro avevano iniziato a maltrattarlo. Antonio era il più violento di tutti e spesso abusava di lei e dei suoi fratelli. Una volta aveva premuto la pistola alla tempia di Enrique e l'aveva minacciato di ucciderlo se gli avesse creato problemi. Ma adesso torniamo all'interrogatorio di Miguel, il biondo. Gli investigatori iniziarono ad incalzarlo con domande sul suo veicolo. Gli chiesero se lo avesse mai prestato a qualcuno. All'inizio lui esitò, ma poi ammise di averlo prestato al suo amico Antonio in alcune occasioni. Peccato però che Antonio non avesse la patente e non sapesse guidare. Miguel ammise che lui e Antonio erano amici da oltre un decennio, ma disse di non sapere dove si trovasse in quel momento e che non lo vedeva da tempo. Miguel aveva dichiarato che la notte della scomparsa delle tre ragazze era stato a cena dalla sua ragazza, ma lei non confermò il suo alibi. Perciò il ragazzo aveva cambiato versione e aveva dichiarato di essere stato in prigione quella notte. I detective però scoprirono che aveva mentito di nuovo perché non c'era traccia di un suo arresto nel giorno del delitto. Alle 5 del mattino del 28 gennaio del 1993, Miguel fu arrestato a causa delle incongruenze della sua dichiarazione. Il 28 gennaio, mentre Miguel si trovava in carcere, sei medici guidati dal dottor Fernando Verdo e Francisco Ross, altri due incapaci messi lì nel loro ruolo da chissà quale raccomandazione, si apprestarono ad effettuare le autopopie delle tre vittime. I corpi furono esaminati nell'ordine in cui furono ritrovati. Il primo ad essere esaminato fu quello di Tony, che era uno dei due corpi che erano stati trovati decapitati. La ragazza, come le altre, aveva le braccia legate dentro la schiena e mostrava segni di un tentativo di stupro non riuscito, ma mostrava chiari segni di altri tipi di sevizie. La causa della morte fu individuata come una ferita d'arma da fuoco alla testa. Anche Desiree era stata decapitata. La maggior parte dei suoi vestiti era sorprendentemente intatta, ma fu trovata senza calzini, cosa che anche la sua famiglia trovò strana. Ma la cosa che scioccò di più i medici fu il fatto che uno dei suoi capezzoli era stato rimosso, probabilmente con una pinza. So che è terribile da sentire, ma non posso non includerlo in questo racconto perché dà l'idea del livello di crudeltà cui erano state sottoposte le povere ragazze. E questa ricordatevi che è sempre una versione addolcita ed elucorata per i censori di YouTube. Anche lei mostrava segni di stupro e anche lei era stata uccisa con un colpo di pistola la testa. Ma il busto mostrava anche ferite di armi da taglio. Come Desiree, anche Miriam fu trovata senza calzini, ma soprattutto priva della mano destra, che non fu mai ritrovata. A differenza delle altre vittime, la povera ragazza aveva subito anche una sorta di pestaggio, poiché le mancavano diversi denti. Come gli altri corpi esaminati, anche lei mostrava segni di stupro. Le tre adolescenti non furono solo uccise, ma violentate, letteralmente torturate, marginalizzate, picchiate, violate con non meglio precisati strumenti, atti a ferire, lacerare, scarnificare, appese come mali da macello e solo alla fine uccise. Un calvario, un martirio scientificamente e ciclicamente perpetrato per ore, fino ad arrivare all'epilogo comune di un colpo di pistola alla testa. I medici legali si rifiutarono di comunicare alle famiglie i risultati delle autopsie, che furono comunicati loro in forma privata dagli investigatori. In seguito, però, un agente di polizia si regò dal padre di Miriam, Fernando, che ormai era diventato un personaggio pubblico e si era mostrato un accaneto ricercatore della verità, per consigliarli di richiedere una seconda autopsia, perché la prima non era stata condotta adeguatamente. Fernando accettò al volo il consiglio e nominò un medico legale di parte, il dottor Frontela, che fu autorizzato da un giudice ad effettuare una seconda autopsia sui corpi delle ragazze. Il secondo esame rivelò che i corpi durante la prima erano stati lavati, cosa che aveva rimosso tutte le possibili tracce di prove forensi che avrebbero potuto essere trovate su di essi e che addirittura alcune parti dei corpi erano state rimosse. Si scoprì anche che era stato trovato un proiettile nella mano di una delle vittime, ma era stato perso nella precedente autopsia. Durante la prima, 15 peli che erano stati trovati sui resti erano stati conservati tutti insieme in un unico contenitore e non analizzati. Una larva trovata sui capperi non era stata presa in considerazione, tutte cose che invece avrebbero potuto condurre, secondo il secondo medico, all'esatta ricostruzione di ciò che era accaduto. Avete capito adesso perché i primi due erano solo i soliti raccomandati senza arte né parte messi lì da qualche amico influente. Intanto la polizia continuava ad incalzare Miguel affinché dicesse loro quello che era realmente successo alle povere ragazze perché le prove contro di lui erano solo circostanziali e senza una sua confessione non sarebbero riusciti a collegarlo al crimine. Come abbiamo già visto, il primo interrogatorio cui fu sottoposto il ragazzo fu infruttuoso ma poi intorno alla mezzanotte del 28 gennaio Miguel firmò la sua prima confessione. La prima di molte, sì, perché le sue dichiarazioni continuavano a cambiare ed a devolversi in concomitanza con le scoperte della polizia. In questa prima confessione Miguel dichiarò che lui e Antonio avevano fatto salire in macchina le tre ragazze e le avevano portate alla romana e loro non avevano posto resistenza. Quando erano arrivate in una zona desolata lui aveva avuto un rapporto consensiente con la 14enne Desiree mentre Antonio si era allontanato con le altre due ragazze. Dopo circa 20 minuti aveva sentito dei colpi di pistola in lontananza. Si presume quindi che Antonio avesse ucciso Miriam e Tony, ma Desiree, che era con lui, da chi era stato ucciso? Poi, con le tre ragazze ormai morte in macchina, lui e Antonio avevano guidato verso una casa vicina dove avevano preso un tappeto che avevano usato per avvolgere le tre ragazze e buttarle in una fossa appena scavata. Secondo questa versione lui e Antonio erano riusciti a scavare la fossa in pieno inverno e senza pala, per di più nell'oscurità della notte. Inutile dire che questa confessione risultò un po' nebulosa e poco credibile. Michael Ricard rilasciò una confessione più dettagliata il 2 marzo del 1993 a cui aggiunse molti dettagli rispetto alla precedente. Disse che il piano di rapire alcune ragazze era stato suggerito mesi prima da Antonio, che essendo gay e odiando le donne, aveva deciso di sfogare la sua aggressività su delle perfette sconosciute. In questa confessione Michael chiarì anche quale arma avevano usato per uccidere le ragazze. Una pistola da 9 mm che Antonio aveva ottenuto illegalmente e già usato in una serie di rapine. Altra versione decisamente poco credibile. E' bene notare che anche la seconda dichiarazione di Michael ha avuto luogo intorno a mezzanotte, 24 ore dopo la prima. Non sappiamo se a Michael sia stato permesso di mangiare o dormire durante questo periodo. Inoltre non sappiamo in che tipo di condizioni fosse stato tenuto. In ogni caso Michael rilasciò altre confessioni e poi il 30 settembre del 94 fornì la sua quarta confessione, quella che gli inquirenti considerarono definitiva e a cui farono riferimento nella prosecuzione delle indagini. In questa versione Michael affermò che la notte della scomparsa delle ragazze lui e Antonio erano in giro con la sua Opel Corsa bianca quando si erano imbattuti nelle ragazze che facevano l'autostop. Loro avevano chiesto un passaggio al color e avevano accettato di portarcele. Quando però Antonio che guidava era passato davanti alla discoteca non si era fermato ma aveva continuato a guidare. Le ragazze avevano protestato e Antonio le aveva prese a pugni per farle tacere. Questo, secondo la polizia, era stato presumibilmente il momento in cui Miriam aveva perso i denti. Avevano poi proseguito fino ad una casa abbandonata dove le ragazze erano state tenute legate per tutta la notte e vi erano andate attorno da Antonio. Quando Antonio ne aveva avuto abbastanza erano andati a bere in un bar e poi a dormire usando un tappeto per coprirsi. La mattina seguente Antonio si era allontanato per alcune ore e quando era tornato aveva detto a Michel che le ragazze avrebbero dovuto essere uccise per evitare che fossero identificati e denunciati. Lui aveva cercato di dissuaderlo e l'aveva invitato a liberarle ma Antonio aveva rifiutato dandogli dell'idiota. Antonio aveva allora portato le ragazze in macchina con braccia legate, le aveva fatte inginocchiare e poi aveva sparato loro in testa. Avevano scavato una buca fuori dalla casa con gli strumenti che avevano portato con loro e avevano usato il tappeto per avvolgere i corpi delle ragazze, le avevano scaricate lì, avevano riempito il buco di terra e l'avevano coperto con dei rami. Il 29 marzo del 1993 Michel Ricard cambiò di nuovo la sua storia e affermò che tutte le sue precedenti dichiarazioni erano false. Dichiarò di non avere nulla a che fare con gli omicidi delle ragazze di Alcassar perché venerdì 13 novembre del 92 aveva fatto shopping e bar hopping. Bar hopping sarebbe la pratica di saltare da un bar all'altro per bere con Antonio e Maurizio dopo aver rapinato una banca pochi giorni prima. Quindi non era affatto vicino alle tre ragazze quella sera. Disse di aver identificato le tre vittime solo dalle immagini in televisione e che le sue confessioni gli erano state estorte dalla guardia civile con la tortura e che l'unica cosa di vero in esse era la sua firma in calcia le stesse. Il 3 settembre del 1993 Michel però confessò di nuovo i suoi crimini. A questo punto le forze di polizia si concentrarono alla ricerca di Antonio Angles che risultava irrintracciabile. Era stato visto l'ultima volta circa un anno prima quando dopo essere saltato da una finestra del quarto piano di casa sua si era dato alla fuga. La polizia ricevette centinaia di segnalazioni di avvistamenti di Antonio in vari punti della Spagna ma non riuscì mai a catturarlo perché lui era sempre un passo davanti a loro. Eppure non era un agente speciale. Prima dell'omicidio delle tre ragazze era considerato soltanto uno spacciatore di bassa lega ma era diventato uno dei criminali più ricercati dell'Interpol di tutta Europa. Antonio sarebbe stato avvistato nella zona di Catarroja da più persone entro un mese dalla scoperta dei corpi. Prima da un tassista che lo aveva accompagnato lì e poi da un parrucchiere che riferì che Antonio si stava tingendo i capelli dal biondo a un colore più naturale. Secondo un'altra segnalazione Antonio sarebbe stato notato da dei camionisti intorno a Valencia. Quello fu l'ultimo posto in Spagna dove Antonio fu avvistato prima di essere successivamente notato a Lisbona in Portogallo nel marzo del 1993. Molte teorie sulla sua posizione sono emerse nel corso degli anni. La prima è che si era imbarcato sulla nave City of Plymouth come clandestino prima di saltare in mare quando era stato scoperto vicino alle coste dell'Irlanda. Altri dicono che sia stato gettato in mare dall'equipaggio della nave da carico. Un'altra teoria era che Antonio fuggì in Brasile attraverso il Portogallo dopo aver rubato il passaporto ad un amico che l'aveva ospitato per un paio di settimane. Poché Antonio era nato a San Paolo aveva la doppia nazionalità e molti pensavano che avesse cercato di trovare una nave che lo riportasse in Brasile. Ma tutto questo discorso è pura speculazione e la storia di Antonio Angless è diventata ormai una specie di leggenda. Come ha potuto un uomo scappare per giunta a piedi e scomparire quando l'intero paese lo stava inseguendo. Per un momento si pensò che la sua ricerca fosse giunta al suo epilogo quando fu trovato un teschio umano dai pescatori del largo di Baltimora, West Cork, in Irlanda. Dall'esame del DNA del cranio però fu l'escluso che appartenesse a lui. L'uomo però non venne mai trovato e rimane tutt'oggi fra i ricercati dell'Interpol. In realtà non abbiamo prove che Antonio sia stato vivo durante tutta questa storia. Molti teorici online hanno ipotizzato che Antonio fosse addirittura morto prima che le tre ragazze di Alcácer scomparissero. Il processo per decidere la colpevolezza di Miguel Ricard non sarebbe iniziato fino al 1997 ma qualcos'altro sarebbe accaduto prima. Venerdì 9 maggio del 1997 Fernando Garzia, il padre di Miriam, chiese un rinvio del processo per consentire ulteriori test del DNA sui corpi delle ragazze, voleva assicurarsi che non ci fossero errori nell'indagine e che non fosse condannato un innocente. Nel settembre del 1996 infatti Fernando aveva ottenuto l'accesso ai fascicoli della polizia e con l'aiuto del famoso criminologo Juan Ignazio Blanco, recentemente scomparso, si era convinto che Miguel Ricard e Antonio Angles non avessero agito da soli. Teorizzò che fossero soltanto dei capri espiatori di un'impresa criminale più vasta che coinvolgeva addirittura personaggi di alto livello, politici e stimati membri della comunità che erano coinvolti in una rete di pericoli. La principale tesi del complotto sostenne che Miguel e Antonio non sarebbero stati in grado di uccidere le ragazze perché erano criminali di bassa lega che furono usati come capri espiatori. I veri colpevoli sarebbero stati un gruppo di persone potenti. Fernando Garzia e Juan Ignazio Blanco nel 1997 andarono a raccontare la loro teoria ad uno show televisivo in prima serata chiamato Estanoce Cruzamos el Mississippi e fecero i nomi di coloro che secondo loro erano i veri colpevoli. Alfonso Calvé, José Luis Bermúdez de Castro e Luis Solana, un gruppo che chiamavano il clan della Moralesia. Alfonso Calvé era uno psichiatra ed es governatore della provincia di Alicante. José Luis Bermúdez de Castro era un produttore cinematografico e Luis Solana l'amministratore delegato di Telefonica, una società conoscita oggi come Movistar. I tre avrebbero ucciso le ragazze per girare e commercializzare una snap movie che sarebbe un video che riprende torture realmente messe in pratica durante la realizzazione del filmato e culminante con la reale morte dell'o della protagonista. Juan Ignazio Blanco affermò anche che un sacerdote di Alcasser gli aveva dato una copia del nastro che gli era stato dato durante una confessione. Il sacerdote naturalmente negò. Il criminologo si rifiutò però di mostrare il nastro in tribunale e risolvere così definitivamente il caso perché disse che il nastro era la sua assicurazione sulla vita. Antonio Angless e Miguel Ricard avevano soltanto portato le ragazze nel luogo in cui poi erano state uccise dal famoso suddetto Gruppetto e le avevano in seguito anche seppellite. Un'altra parte della teoria del complotto sostenne che in realtà era Antonio quello sepolto alla Romana e non le ragazze perché il braccio che era stato inizialmente trovato aveva un grande orologio che sembrava maschile non certo un orologio di Topolino. Come avrete intuito il suddetto clan della Moralesia. Non rimase affatto contento delle accuse. Fece causa a Fernando Garzia e Juan Ignazio Blanco e lo vinse. I due però continuarono ad apparire in televisione e ad insultare la polizia accusandola di avere falsificato le prove e o di averle perse e definendo inetti i medici legali che avevano eseguito la prima autopsia e vecchio rimbambito il pubblico ministero. E qui non gli do torto. Però ancora una volta i due furono citati in giudizio per calunnia e furono condannati. Anche la madre di Desiree, Rosa Folk, si schierò contro la teoria di Fernando e gli impedì di usare il nome di Nignas de Alcácer per la sua organizzazione No Profit che l'uomo fondò comunque per raccogliere fondi per far proseguire le indagini sulla morte delle ragazze. Juan Ignazio Blanco cercò di pubblicare un libro intitolato Che passò in Alcácer che conteneva fotografie e colori delle autopsie delle ragazze. Così Rosa Folk li fece causa per far ritirare il libro delle librerie e vinse per fortuna. Rosa fu accusata di aver ricevuto denaro dal governo per far terminare le indagini ma io credo che volesse soltanto porre fine al circo mediatico che circondava la morte di sua figlia. Juan Ignazio Blanco è morto nel 2019 per cause naturali e il nastro dello snap movie non è mai emerso. La richiesta di Fernando Garzia ovvero di rimandare il processo però fu respinta e l'uomo alla fine fu anche condannato a pagare un risarcimento di 270 mila euro e una multa di 14.760 euro a causa delle sue gravi accuse nei confronti degli ufficiali della Guardia Civilla e del pubblico ministero incaricato nel caso. Juan Ignazio Blanco dovette pagare un totale di 350 mila euro di risarcimento e ricevette anche una condanna a due anni di carcere, una sentenza miete considerando che l'accusa aveva richiesto ben 16 anni per ciascuno dei due. Nonostante la sua condanna Juan è rimasto un criminologo molto apprezzato e ha persino fondato due noti siti web per l'archiviazione dei reati penali. Intanto fino a quando il suo processo non iniziò dopo molti ritardi lunedì 12 maggio del 1997 le versioni di Miguel continuarono a cambiare numerose volte. Il processo fu uno dei più seguiti nella storia della Spagna e durò quasi tre mesi. La difesa di Miguel sostenne che non c'erano prove fisiche che collegassero né lui né Antonio alla scena del crimine, né un'impronta digitale, né una goccia di fluido corporeo. L'unica cosa che collegava Miguel, o meglio Antonio, alla scena del crimine era un pezzo di carta con il nome di Enrique che era stato trovato nella vicinanza del luogo del ritrovamento dei cadaveri. La difesa cercò di evidenziare anche gli errori che erano stati commessi durante le indagini, come la cattiva gestione delle prove della scena del crimine, le piste sui sospetti alternativi che non erano mai state eseguite dagli inquirenti e anche le affermazioni di Miguel sulle torture e le coercizioni che aveva subito da parte degli investigatori che hanno portato alle sue confessioni. Un altro problema venne alla luce nel processo fu il filmato dell'autopsia che avrebbe dovuto essere trasmesso per intero durante il processo, ma del quale furono amostrate di solo 20 minuti, per di più senza audio, con alcune parti accelerate, altre ripetute e alcune addirittura cancellate. Il caso divise i cittadini spagnoli a metà, quelli che vedevano Miguel come un uomo innocente incastrato per un crimine che non aveva commesso e altri che credevano che lui e il suo amico Antonio Angles fossero i peggiori mostri che la Spagna avesse mai visto. Il processo si concluse il 30 luglio del 1997. Il pubblico aspettò con il fiato sospeso per scoprire il destino di Miguel Ricard fino al 5 settembre del 1997, quando il magistrato Mariano Thomas Benitez lo condannò a 170 anni di carcere per rapimento, stupro, omicidio e occultamento di cadavere delle tre giovani donne. Ma nonostante questa condanna a seguito di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Miguel non trascorse il resto della sua vita in prigione. Per decenni il periodo è più lungo che un prigioniero spagnolo potesse trascorrere in prigione era di 30 anni, ma nel 1990, dopo la condanna di un terrorista di nome Harry Parot, la Spagna si era riservata il diritto di infliggere una condanna a vita ai criminali più violenti come lui, secondo quello che fu denominata appunto dottrina Parot. Nel 2012 un terrorista spagnolo condannato a 3.828 anni di carcere, Inez Dario Prada, appartenente all'ETA organizzazione separatista basca, fece appello alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che, nell'ottobre del 2013, si pronunciò a suo favore chiedendo l'immediato rilascio di Inez e stabilendo che il governo spagnolo gli pagasse 30.000 euro di esarcimento per ingiusta condanna. La motivazione fu che tenere un prigioniero in carcere per più di 30 anni nell'Unione Europea fosse una punizione troppo crudele. Sentenzio anche che la pena di 30 anni avrebbe potuto anche essere ridotta in caso di buona condotta del detenuto. Questa sentenza fu estesa a molti prigionieri spagnoli, compresi Miguel Ricard, che il 29 novembre del 2013 fu rilasciato dal carcere dopo aver scontato solo 21 anni della sua condanna a 170 anni. Io mi domando e dico, ma i legislatori europei, ma dove vivono? Ma a me che me ne frega se uno stupratore assassino crepa in carcere? Ma perché dovrei essere magnanimo con lui? La risposta è semplice, semplice. Non vivono nella realtà di tutti noi comuni mortali. Se loro chiamano la polizia, questo arriva all'istante. Se dei quartieri dorati dove vivono la delinquenza aumenta, la polizia penserà a disperderla verso la periferia. Se qualche pirla decide di far male a loro o a qualche loro familiare o solo conoscente, conoscerà cosa vuol dire carcere duro. Questa è la verità. Sono tutti bravi a fare magnanimi con la vita degli altri. Anche se il detto non è proprio così. Ed evitiamoci la solita storia del ravvedimento e del recupero. Certi esseri sono nati quadrati e non moriranno di certo tondi. Adesso per favore non iniziate la solita solfa del «amma sei un complottista, amma sei un anti-europeo, amma incidi all'odio, amma fai la matriciana con la pancetta». Pensate quello che volete, ma secondo me la verità è questa, al netto del buonismo da salotto televisivo. Ripeto, niente pena di morte, ma carcere duro fino alla fine dei tuoi giorni. Michel fu accolto fuori dalla prigione non da familiari ed amici, ma da una schiera di giornalisti desiderosi di registrare le sue prime dichiarazioni. Lui però si rifiutò di parlare con chiunque e si tiresse verso una vicina stazione ferroviaria. Usando parte dei guadagni che aveva accumulato lavorando in prigione, pure, circa duomila euro, prese un treno per una città vicina in direzione Madrid, per poi far perdere le sue tracce. Dopo il suo rilascio, Michel rilasciò solo una breve intervista radiofonica, durante la quale dichiarò di essere innocente e che qualcuno lo aveva incastrato. E sì, lui era proprio un bravo ragazzo. Peccato che a dicembre del 2022 il caro Michel è stato arrestato a Barcellona con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. E allora perché non lo mettiamo come vicino di casa di un parlamentare europeo? Niente, questo non gli suona. Vambe. Mentre il mistero di chi le avesse uccise avrebbe continuato a dominare i media spagnoli per il decennio successivo, le ragazze purtroppo furono per lo più dimenticate dal resto del mondo. Una statua delle tre ragazze fu costruita ed eretta in un cimitero vicino al luogo dove i resti delle tre furono sepolti. A distanza di molti anni dall'efferata mattanza di Alcasse, ci sono ancora tanti lati oscuri su cui varrebbe la pena far luce. Ancora oggi c'è chi continua a considerare questo caso un call case, nonostante le due sentenze di condanna, perché ritiene che Antonio e Michel fossero stati incastrati da qualcuno molto in alto. Come è successo nel caso del massacro del Circeo, le ragazze vittime di indicibili torture non hanno avuto piena giustizia. In entrambi i casi gli assassini hanno ricevuto pene troppo lievi e addirittura non sono stati mai catturati. Il 6 gennaio del 2023 Michel ha rilasciato un'intervista ad una televisione spagnola parlando della sua infanzia e giovinezza, del suo incontro con la famiglia anglessa, delle confessioni che le erano state estorte dalla polizia. Fernando continua in tutti questi anni a combattere per poter fargli aprire il caso delle tre nignes di Alcacer. Un'ultima notizia. Come potrebbe mancare la pista del satanismo? Ci tengo a sottolineare che le prove di cui parlano i sostenitori di questa tesi non trovano riscontro nei documenti ufficiali del caso e che ne ho trovato traccia soltanto in pochissime delle fonti online in cui mi sono imbattuto. Ma analizziamo le prove a sostegno di questa tesi. Pare che dentro il corpo di una delle ragazze fosse stato introdotto in qualche modo uno strano ciondolo, quello che in Spagna viene chiamato Cruz de Caravaca, un potentissimo talismano contro il demonio che viene spesso utilizzato durante gli esorcismi per liberare i posseduti dal maligno. Ebbene, secondo i più informati, questo amuleto crocifisto verrebbe usato capovolto anche durante i riti satanici per evocare il Signore delle tenebre. Probabilmente quindi l'omicidio delle tre ragazze era in realtà un sacrificio umano. Lo dimostrerebbero anche il fatto che tre è il numero che indica la Trinità, il nemico da maledire durante il rito. Un altro elemento su cui non si era indagato, vuoi per incompetenza o per esplicita volontà di personaggi non interessati a far emergere la verità, era stato il ritrovamento di una piccola incisione fatta con un oggetto appuntito sulla pelle di una delle tre ragazzine, raffigurando una specie di otal che nel linguaggio runico rappresenterebbe qualcosa che si sta trasformando o concludendo, forse la morte. Inoltre non erano stati presi in considerazione tre pietre di fiume che erano state trovate sui corpi delle ragazze, anche queste usate pare in eriti satanici. La stessa data della sparizione e molto probabilmente della uccisione delle tre è significativa. Si trattava di un venerdì, precisamente il 13, il 13 novembre del 1992 ed è una data che, sempre per qualche fulminato, rega combinazioni numeriche particolari al suo interno. Prendiamo carta e penna. 13, 11, 1, 3, 1, 1. Sommati fa 6. Dall'anno 1992 togliamo la cifra iniziale e la finale. Non mi chiedete perché, questo non lo possono capire se non pochi eletti. Rimare il 99. Capovolgiamo il 99 e otteniamo il 66. Uniamo le tre cifre ed ecco il numero della bestia, il 666. Quello che vorrei ricordare a questa gente è che la droga uccide. Bisogna fare attenzione a quello che si fuma. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che like, iscrizione e commenti sono gratuiti per voi ma utilissimi al mio canale. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo occhio a chi vi saluta sempre. Ciao.